Ciao a tutti e ben trovati come sempre. Le parole chiave per il tutorial di oggi sono infanzia e sogni. Queste due cose dovranno rientrare in un unico pendente. A metto di aver avuto un po' di difficoltà a creare un'unica ambientazione per entrambe le cose, ma spero di esserci riuscito. Alla fine del video, se vi sentite di dare un suggerimento o di commentare, io accetto e apprezzo tantissimo. Mi raccomando, se poi il video vi piace mettetemi un like e per chi non lo avesse ancora fatto, si iscriva al canale. E' una cosa che mi permette di poter continuare a fare questi tutorial. E vi ringrazio per questo. Iniziamo! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti.